Ci vibra il cielo, lo spirito, e poi ti crede se salire, di morte freddo vicolo, di membra veste vivide, tuo santo patrocinio, lontano tieni il perfido, se i morti a noi si approssimano, dagli astri estremi a nevidi, ci vibra il cielo, lo spirito, al padre, al figlio, cantico, o gloria al santo spirito, che te consono giubilo, di tanti doni ornano, lontano tieni il perfido, se i morti a noi si approssimano, ossia, dagli astri estremi a nevidi, ci vibra il cielo, lo spirito, nell'aurora tu sorgi più bella, con i tuoi rati e far vieta la terra, e dagli astri che il cielo rinserra, non vè stella più bella di te, bella tu sei quel sole, bianca più che il sole, bianca più che il sole, e le stelle più belle, non sono belle a far di te, bella tu sei quel sole, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vergine pura, etene al Signor. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate Maria. 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 Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era il principio, ora e sempre Nei secoli, dei secoli, ame Dolce cuore del Dio Gesù Dolce cuore di Maria Maria, regina dei martiri Gesù mio, perdona le nostre colpe Preservaci dal fuoco dell'inferno Orde in cielo tutte le anime Scusate le più sognose della tua misericordia Salve Regina, madre di misericordia Vita, dolcezza, speranza nostra Salve, salve Regina Salve Regina Madre di misericordia Vita, dolcezza, speranza nostra Salve, salve Regina Salve Regina A te ricordiamo E sui figli di Eva A te sospiriamo Piangenti In questa valle di lacrime Avvocata nostra Volgi a noi gli occhi tuori Mostraci troppo quest'esilio Il frutto Il frutto Per tuo seno Gesù Salve Regina Madre di misericordia Ovviamente ovvia O dolce Vergine Maria Salve Regina Salve Regina Salve Regina Salve Regina Salve49 Salve Regina Salve Che vien di giubilo, oggi ti onorrà, che vien di giubilo, oggi ti onorrà. Anche o trastevole, torno ai tuoi piedi, oh Santa Vergine, prega per me, oh Santa Vergine, prega per me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Con grande umiltà, dinanzi alla Vergine Santa e al suo Figlio Gesù, nostro Signore, riconosciamo le nostre vaginità e i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli Angeli Santi e a voi fratelli, di pregare per me, il Signore è Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdone i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore è Pietà, Cristo è Pietà, Signore è Pietà, Signore è Pietà, preghiamo. Venga su di noi, oh Padre, la potenza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla tua volontà per testimoniarla con amore di figli. Per il nostro Signore è Giosu Cristo, tuo figlio che è Dio, e viveregna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Tagliati degli Apostoli Mentre Apolo era corinto, Paolo attraversato le regioni dell'Oltopiano, scesa e è tesoro. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fine decca? Gli rispossono Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo. Ed egli disse Quale battesimo avete ricevuto? Il battesimo di Giovanni dispossero Disse allora Paolo Giovanni battezzò con un battesimo di conversione Dicendo al popolo di credere in qualunque sarebbe venuto dopo di lui Cioè in Gesù Utito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù E non appena Paolo ebbe imposto loro le mani Discese su di loro lo Spirito Santo E si misero a parlare in liquo e a profetare Erano in tutto circa 12 uomini Entrando poi nella sinagoga Vi potrei parlare liberamente per tre mesi Discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori e ciò che riguarda il Devo di Dio Parola di Dio E mi chiamano grazie a Dio Regni della terra, cantate a Dio Regni della terra, cantate a Dio Sorga a Dio e siano dispersi i Suoi nemici E fuggono davanti a Lui quelli che lotiano Come si dissoglie il fumo, tu li dissoghi Come si scioglie la cena di forche al fuoco Periscono i malbaci davanti a Dio Regni della terra, cantate a Dio I giusti invece si rallegrano e sultano davanti a Dio E cantano di gioco Cantate a Dio e legiate al suo nome Signore è il suo nome Regni della terra, cantate a Dio Padre degli orfani e difensori delle vedove E Dio nella sua santa timora A chi è solo, Dio fa abitare una casa Fa uscire con gioia i prigionieri Regni della terra, cantate a Dio Alleluia 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 Se siete risulti con Cristo Cercate le cose di lassù Dove Cristo seduto Alla destra di Dio Alleluia 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 Il Signore sia con voi Dall'angelo secondo Giovanni In quel tempo dissero i discepoli a Gesù Ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato Ora sappiamo che tu sei tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi Per questo crediamo che sei uscito da Dio Risposte loro Gesù Adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta In cui vi disperderete ciascuno per conto suo E mi lascerete solo Ma io non sono solo Perché il Padre è con me Vi ho detto questo perché abbiate pace in me Nel mondo avete tribolazioni Ma abbiate coraggio Io ho vinto il mondo Parola del Signore Ieri abbiamo celebrato la grande festa dell'ascensione di Gesù al cielo E Gesù ci ha promesso che quando lui sale al cielo Ci darà lo Spirito Santo Perché voi sappete, noi sappiamo che Dio non è un essere solitario Dio è Trinità Padre, Figlio e Spirito Tre persone, un unico Dio Ecco la Trinità La Trinità I cristiani affermano questo Che Dio è Uno e Trino E poi affermano un'altra grande verità Che il figlio di Dio, la seconda persona della Trinità Si è fatta carne E' diventato un uomo come noi Chi non dice, chi non afferma queste cose Non è cristiano Anche quando qualcuno in maniera cortese Senza fare i nomi Viene a bussare alle nostre porte, alle nostre case E ci dice Ti posso fare una domanda? O vanno a pescare quale domanda Come si è alzato la mattina O come le hanno detto dal direttivo Che devono fare le domande E poi Vanno a finire a questo Che non esiste la Trinità Non esiste Gesù è solamente un uomo Il palo di tortura La Bibbia Esiste solo la Bibbia O poi bisogna vedere che è Bibbia Tutte queste cose qua Mi raccomando Voi che siete il mio popolo Io ogni tanto vedo dei lupi rapaci Ma in realtà Più che i lupi rapaci Che girano nelle nostre parti Sono delle pecorelle Poverine Che sono entrate in un giro Non tanto bello Non tanto di libertà E noi dobbiamo essere veramente bravi Accoglienti Di queste persone E l'accoglienza più bella E dire Io sono un cristiano Cattolico Convinto Voglio bene Alla Madonna E basta E basta Questa è la più bella risposta Che possiamo dare Ma non solo Non solo questa è la risposta Che noi dobbiamo dare Ma noi dobbiamo praticare Tutto questo amore Alla Madonna Dice Gesù Nel Vangelo Una cosa molto semplice Ma molto vera Qual è la cosa molto semplice E molto vera Che noi saremo perseguitati Questa sarebbe la semplicità I cristiani Devono essere perseguitati Da chi? Dal mondo Che cos'è il mondo? Il mondo Non è il cielo La terra Gli alberi Che cos'è? Il mare Non è questa la persecuzione Per mondo Dobbiamo intendere Tutta quella mentalità Quel modo di fare Quel modo di agire Che è contro Il Vangelo E questa contrarietà Al Vangelo Noi ce l'abbiamo Nelle nostre case Nelle nostre famiglie Passa anche attraverso La televisione Passa anche attraverso I semplici discorsi O dei modi di fare Dei modi di dire C'è una mentalità Che va contro Il Vangelo E noi I cristiani Se siamo fedeli A Gesù Sentiamo La differenza Sentiamo Il mondo Che ci attira Perché il mondo Come vuole perseguitare I cristiani O appunto Con la persecuzione Tanti cristiani Che soffrono E piangono Per amore di Gesù E vengono uccisi Per amore di Gesù Tanti martiri Come non mai Il novecento E questo secolo E il secolo Dei martiri E la Madonna Fece vedere a Lucia A Fatima Questa montagna Guidata dal Vescovo Vestito di Bianco Che era il Papa E tanti Dietro di lui Che morivano Che venivano Uccisi Sparati Venivano perseguitati Sono i cristiani Fedeli Al Vangelo di Gesù Tanti vengono Perseguitati Uccisi Per amore del Vangelo Però Il mondo Invece Soprattutto Dalle nostre parti Come ci perseguita Attirandoci Nella rete Che non è più Il greggio di Cristo Anzi Ti dice Tu Devi stare Fuori dal greggio Fuori dal greggio di Cristo Per essere Veramente persona Veramente contento Veramente felice Devi lasciare stare la chiesa Devi lasciare stare i preti Devi lasciare stare il Papa Devi lasciare stare tutte le chiacchiere Che vanno a dire in chiesa Lasciare stare tutto questo Fuori dal greggio Alza la testa Vieni invece dall'altra parte Lì proverai la libertà Perché Il mondo Ti dà il divertimento Il piacere Vedi questa chiesa Che ce l'ha E contro quello E contro quello E contro quell'altro E non così E non colare E non colì Che cos'è questo Vangelo Ecco che l'ha detto Che il Vangelo viene da Dio Poi Dio dove sta E' esistito veramente Questo Gesù Cristo Poi vedi Vedi la chiesa Vedi la televisione I preti che fanno I vescovi che fanno Meno male che sta questo Papa Che Ci piace un po' Un po' Della parte ci piace Poi dall'altra parte Non ci piace Perché dipende un po' Come va la bandiera Perché se Fa quello che piace a noi E' bravo E' bravo Poco a poco Deve dire Deve fare una cosa diversa Eeeh Da dove è venuto Della Gendì E mattina Si è venuto No? E quindi E adesso Siamo noi Siamo noi Il Vangelo Il Vangelo Il Vangelo Ecco allora Tante parti del mondo Il mondo La mentalità Contrario al Vangelo Perseguita i cristiani Togliendoli di mezzo Dalle nostre parti Invece Ci attira In questa rete In maniera Soft In maniera Gentile Con i ragionamenti Con il sorriso Con la moda di fare Con Con l'attrazione Verso I ragionamenti Soprattutto L'affermazione Diciamo Della persona Soprattutto i piaceri Di ogni tipo Di ogni tipo E allora Il Vangelo Oggi fa fatica Ad entrare Nel vostro casa Perché non è più di moda Non piace più Perché sapete Gesù Sapete che cosa propone Sui discepoli No no Propone subito La gioia La pace E l'amore E la libertà Quello è un risultato Però prima Sapete che cosa propone Gesù La croce La croce E a chi piace la croce A nessuno Però Sapete perché La croce non piace a nessuno Perché è pesante Ma sapete perché è pesante La croce Perché non preghiamo Perché se pregassimo Un po' di più Se avessimo tra le mani La corona del rosario Se partecivassimo di più Alla messa Facendo la comunione Minimo La domenica Minimo Non è che uno è un bravo cristiano Perché va a messa la domenica Ma perché aiuta i poveri Dice io non vado a messa la domenica E io aiuto i poveri No Non lo dobbiamo aiutare i poveri Eh sì Certo Non ci puoi dire Devo fare una cosa in l'altra Anche il Vangelo 1 Non è che gli dice Aiuta i poveri E non andrà a messa la domenica Non andrà a messa la domenica Aiuta i poveri Non è che gli dice Sei fedele al matrimonio E il papà va del prossimo Oppure Non rubare Però magari non vengono a trovare mamma e papà a casa Che so Non so i video su delle cose Però se guarda Se sta passando a una donna E si fa male Medi l'occhio Oppure se sta un uomo Un pochino così Beh Peccato che mi sono sposato con mio marito Ma devo stare con quello Eh Eh Niente di tutto quello Niente di tutto quello Questo non è il Vangelo Questo non è il Vangelo Il Vangelo 1 Eh Non è che noi Eh La morale Questo ci piace Questo non ci piace Questo è bello No Quello è Quello Allora O tutto o niente O tutto Gesù dice Se voi volete seguirmi Il vostro parlare C'è anche il vostro agire Sì 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 no no Il di più Dire dal marino Ecco allora Se noi invece Preghiamo un po' di più Attraverso la regina del rosario Sapete i problemi Tra marito e moglie Come si risolvono Senza Tante chiacchiere E Qualcuno dice Eh Dobbiamo parlare E sta a trovare La sera Per parlare Dopo una giornata di lavoro Un deve parlare Eh E che cosa Poi magari la volta Col muso per terra Perché ieri Alla festa della mamma E allora magari Non le ha fatto Neanche gli auguri Perché Si dice Vabbè io sono la moglie Però gli auguri Volevo Poi del mio marito Ci mancherebbe Eh Perché tante volte I mariti Sono come dei figli Male E allora Invece di tanti Chiacchiere In tante parole Ma chissà Dove devi andare Dove devi andare E non c'è bisogno Di andare da nessuna parte Forse bisognerebbe Prendere la colonna Del rosario Tra le mani E incominciare ad essere Come dei bambini Al dire Marita e moglie Marita e moglie Chi recita il rosario Marita e moglie La famiglia diventa forte Diventa unita E se poi i bambini Vedono che marita e moglie Dicono il rosario insieme E lo dicono insieme Poi magari diventeranno grandi Vabbè quando diventano grandi Eh cioè Si devono emancipare Perché no Che cosa la chiesa Basta La crespa e basta No Però I bambini Guarderanno E vedranno sempre I genitori Che pregano Che vanno a messa Che sono timorati di Dio Che non si vergognano Di volersi bene Realmente Il mondo Ci fa seguita Attirandoci verso il male Però noi invece Dobbiamo essere attratti Da Gesù Allora se noi preghiamo Siamo attratti Dall'altra parte Dal Signore E allora Questo vogliamo chiedere Alla Madonna Maria aiutaci A stare sempre Con il tuo figlio Gesù Noi vogliamo stare sempre Con lui Perché lui è la risposta Ai nostri problemi Sapete Ha tanti problemi La risposta è La fede Tante volte La risposta Non avviene Come vogliamo noi Come vogliamo noi Ma Gesù ci dà La risposta giusta Se uno crede Ha la risposta giusta Alle difficoltà Che ha La forza La grazia La luce È la fede È la fede Che vince il mondo È Cristo Che vince il mondo È lui Il Signore E insieme a lui C'è Maria La Madonna Che dobbiamo amare Pregare Ogni giorno Quante volte La Madonna È la più amata Al mondo È la più bestemmiata Al mondo Quante volte E noi dobbiamo Veramente sentire Disgusto Dobbiamo Proprio Come se In quel momento Dicono Una cosa brutta Alla nostra mamma Anzi più Della nostra mamma Dobbiamo Essere forti In nome del rispetto Perché tante volte Noi vogliamo essere rispettati Però non rispettiamo La Madonna Non rispettiamo i santi Non rispettiamo La chiesa Non rispettiamo E noi Per non Una sorta di vergogna Di rispetto umano Non diciamo la nostra Se non ci devono collare Come bigotti Come persone che vanno in chiesa Ricordiamoci in quel momento Che dice Gesù Se tu non mi riconosci Davanti al mondo Io non ti riconoscerò Davanti al Padre Dio Ceresto E poi ancora Io mi darò L'ingua e sapienza Per confondere E convertire Anche Perché il Signore Ci dà questa forza La nostra forza È la parola di Dio La nostra testimonianza Poi il Signore agisce Lì per rispetto Che non abbiamo fatto niente Anzi Abbiamo peggiorato Non ci dobbiamo preoccupare Noi dobbiamo Dire la parola di Gesù E comportarci con coerenza Per essere fatto io Chiediamo a Maria Di sostenerci Nel nostro cammino Di benedire Le nostre case Le nostre famiglie La nostra comunità parrocchiale Perché ritorni A esserci La fede Semplice Soprattutto L'unità E la santità Nella famiglia Ci possa essere Sempre il lavoro Per tutti L'onestà Nel lavoro Il rispetto Nel lavoro Ci possa essere Un amore Un amore pulito Un amore pulito Un amore sporco L'amore sporco L'altro giorno Venne un elettricista In parrocchi Perché purtroppo Quelli in parrocchi Si spacciano le cose Come andiamo a fare Allora Non so come Se ne uscì Il discorso Disse Non era Non era di malfezza E disse Padre Padre Adesso Va di modo allusato Riferendosi a che cosa Che cosa Alle ragazze Oggi va di modo allusato Che cosa Molto volgare Però è la realtà Forse Forse Oggi va di modo allusato E non solo delle ragazze Ma anche dei ragazzi Oggi si usano A vicenda Si usano E questo è tutto Perché vuol dire che noi Non siamo più persone Ma diventiamo cose Le cose si usano Le persone si rispettano Le si amano E allora Volevo chiedere Alla Madonna Che ritorni ad esserci Veramente L'amore L'amore bello L'amore pulito L'amore fedele L'amore fecondo L'amore per tutta la vita Nella fatica E anche Nelle prove Dell'esistenza Ci sia poi soprattutto Un rispetto E l'accoglienza Della vita Dal suo concepimento Nel grebo Fino a poi A questa vita Che significa Persone umane Da accudire Fino all'ultimo giorno Della propria vita Gli anziani Sofferenzi Pace e salvezza Diamo a lei Lei in silenzio Ci guarda Grazie con quel sorriso materno E guardandoci Con questo sorriso materno Ci dona la consolazione E la speranza Che lei sicuramente Ascolterà Ed esaudirà Le nostre Umili preghiere Innalziamo Innalziamo la nostra Unanime preghiera Addio Nostro padre Diciamo insieme Ascoltaci O Signore Ascoltaci Preghiamo E questa è una delle strade Più numerose Dove ci sono più famiglie Della nostra parrocchia E preghiamo per questo quartiere Ma per tutta la nostra comunità Perché Possa ritornare ad essere Veramente fedele A Gesù Possa seguirlo Ci possa essere tanta pace Lavoro Prosperità Tante famiglie Possano Riscoprire la santità E l'unità Preghiamo Ascoltaci O Signore Infidiamo La Madonna A Gesù Per le mani di Maria E Tutte le nostre intenzioni Soprattutto Tanti ammalati Tanti soffaretti Tante persone Che vivono Nel disagio Perché Maria Volga il suo sguardo Benedicente Su ciascuno Di noi E su chi abbiamo Nel nostro cuore E salvisca umilmente Le nostre preghiere Preghiamo Ascoltaci O Signore In questo momento Vogliamo affidare Ancora Una volta Alla Vergine Santa E Coloro che Per terra E per mare Viaggiano Per tante persone Che sono lontani Da questa città Preghiamo Per la nostra città Di Molfetta Perché Al di là Del Del sembrare Dell'apparire Ritorni ad essere Ad essere Un paese Ospitale Accogliente Un paese Della pace Non solo Messo sulle etichette O sulle entrate Della nostra città No Della pace Da respirare in famiglia Tra di noi Ci possa essere Un'accoglienza Quanto è brutto Che quando in un condominio Uno dice Io non conosco Quello di sopra Non so neanche Chi abita sopra Che brutto Neanche salutarsi Che brutto Passare davanti A una chiesa E non salutare Neanche più il Signore Non ricordarsi Più di Dio Che brutto dire Ma che me ne importa A me Perché possiamo Ritorno ad essere Più umani Ad essere Più umani Più cristiani Più concreti Preghiamo Tutto questo Paolo Noi te lo chiediamo Per Cristo Nostro Signore Amén Vogliamo vivere il Signore Vogliamo vivere il Signore Con questo pane e questo vino Accelta quello che noi siamo Vogliamo vivere il Signore Abbonate l'acqua voce Sì 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 Signore Pregate fratelli e sorelle Perché il mio Questo sacrificio Si è gradito Dio padre Onnipotente Signore Signore Questo sacrificio Senza macchia ci liberi dal peccato in fondo al nostro cuore il vigore della tua grazia per Cristo nostro Signore il Signore sia con voi in alto i nostri cuori rendiamo grazie al Signore nostro Dio è veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode Dio di Potente ed Eterno per Cristo tuo Figlio Signore dell'Universo entrato una volta per sempre nel Santuario dei Cieli Egli intercede per noi Mediatore e Garante della breve fusione dello Spirito Pastore e Vescovo delle nostre anime ci guida la preghiera unanime sull'esempio di Maria e degli Apostoli nell'attesa di una rinnovata Pentecoste per questo mistero di santificazione e d'amore unito agli angeli e santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria Santo, Santo, Santo e Signore Dio dell'Universo sono pieni della tua gloria Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei Cieli Veneto colui che viene nel nome del Signore, osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede sui scepoli e disse, prendete e mangiatele tutti, questo è il mio corpo, offerto il sacrificio per voi. Dopo la cena allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede sui scepoli e disse, prendete e mangiatele tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, una remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Anziamo la morte, Signore, mangiatele tutti, questo è il calice del mio sangue. Celebrando il memoriale della morte e l'esulazione del tuo figlio, ti offriamo Padre il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci rumisca in un solo corpo. Ricordati Padre della tua chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affilano alla tua cremenza, mettiti a godere la luce del tuo morto. Direi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Bernardino e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, vogliono la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amén. Ricordati dallo Spirito di Gesù, vi accompagnati dalla presenza materna della Vergine Maria, insieme diciamo Padre nostro che se in i cieli sia santificato il tuo nome, che il Dottoreino sia fatta dalla tua volontà, con il cielo così in terra, lasci oggi il nostro pane e continuiamo, e rimette a noi i nostri debiti, come noi liberiamo i nostri debitori, e non si intuole le trazioni, ma non si intuole le trazioni, ma non si intuole le trazioni. Liberaci, oh Signore, da tutti i mani, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la viata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo che ha detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua chiesa, e donare unità in pace, secondo la tua volontà, tu che viveremmi nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi, con grande gioia scambiatevi un segno di pace. Signore Gesù Cristo che ha detto ai tuoi apostoli, e donare unità in pace. Beati, vi invitati, alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, e donare unità in pace. Signore Gesù Cristo che ha detto ai tuoi apostoli, e donare unità in pace. Signore Gesù Cristo che ha detto ai tuoi apostoli, e donare unità in pace. Signore Gesù Cristo che ha detto ai tuoi apostoli, e donare unità in pace. Grazie a tutti. 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 tutti. tutti tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 grazie a 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 tutti. La sera alle 5.00-10.00 ci incontriamo in chiesa per la recita del rosario, intorno massimo alle 5.00-15.00 usciremo con l'icona e poi accompagneremo l'immagine della Madonna dei Martiri per alcune piccolissime strade del nostro territorio e poi le accompagniamo in Basilica. domani addirittura ci sarà la partecipazione non solo di tutte le associazioni ma spero di tutta la parrocchia di San Bernardino ma anche delle confraternite e delle associazioni di Bolfetta perché stiamo celebrando l'anno giubilare e quindi la Madonna veramente è voluta venire qui in questo periodo, in questo anno nella nostra parrocchia. forse ci vuole dire qualcosa la Madonna, proprio nell'anno santo la Madonna è venuta nella nostra comunità sicuramente per dirci che ci usa misericordia e che ci vuole bene però che ha fiducia di noi, forse da noi si aspetta un po' più di amore sicuramente. quindi vi invito domani a essere presenti e poi intorno alle 7.15 saremo davanti al Sagrato della Basilica perché il Vescovo aprirà la Porta Santa e poi dopo l'apertura della Porta Santa la Basilica della Madonna dei Martiri diventerà chiesa giubilare e poi ci sarà la celebrazione eucaristica durante la quale la nostra comunità parrocchiale offrirà l'olio votivo che servirà da alimentare la lampada che brilla sempre davanti alla statua della Madonna. ecco coloro che magari vogliono fare un atto di devozione e di amore sanno cosa fare, portare magari in questi giorni l'olio in parrocchia così poi possiamo donarlo alla Basilica. sicuramente questo servirà per la Madonna e spero tanto che poi possa servire anche per i figli di Maria che ogni tanto vanno a bussare a quella chiesa per chiedere qualcosa, un po' di viveri, un po' di cibo ecco perché bisogna pensare al cielo e alla terra, alla terra e al cielo, a tutto, i cristiani pensano a tutto. E allora grazie, grazie, grazie a tutta Via Galeppi, grazie, 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 grazie a tutti coloro che si sono adoperati anche di qua, adoperati per il rivestimento e quindi questa strada, grazie a tutti, grazie, grazie veramente, grazie, grazie per il coperto che avete messo, grazie per se avete reso bella questa strada ma l'abbiamo resa bella sicuramente con le nostre preghiere. un grazie grandissimo a tutta la comunità parrocchiare, ai nostri grandi portatori che adesso riaccompagneranno la Madonna alla sua casa che è appunto la nostra parrocchia e viva Maria! Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Io, io vorrei tanto sapere da te se quando era bambino tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di noi ai sacri ce degli affritti rega per noi aiuto dei cristiani rega per noi regina degli angeli rega per noi regina dei patriarchi rega per noi regina dei profeti rega per noi regina degli apostoli rega per noi regina dei confessori della fede rega per noi regina dei vergini rega per noi regina di tutti i santi rega per noi regina di tutti i santi rega per noi regina di tutti i santi Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. E gli angeli coi santi per copergiarla ognò. Evviva Maria, Maria, evviva, evviva Maria, e chi la creò. Evviva Maria, e chi la creò. Quando il sole è già coccente, le colline e il mondo indora. Quanto a sera si scolora, ti saluta il mio pensier. Quando a sera si scolora, ti saluta, ti saluta il mio pensier. Evviva Maria, Maria, e chi la creò. Evviva Maria, e chi la creò. Grazie a tutti. E adesso veramente con grande amore e devozione accogliamo la benedizione di Dio. È bello vedere quando passi le persone che si fermano, che pregano, fanno il segno di croce, dicono all'Ave Maria. È bello quando passi per le strade venire coperte, le luci, viva Maria. Non è bello vedere l'indifferenza, oppure qualche volta, insomma, fanni decorosi quando passa. Però ho fiducia che sicuramente miglioreremo sempre di più il nostro senso civico e religioso, che molto spesso va insieme. E ora accogliamo con amore la benedizione di Dio per intercessione della Vergine Santa. Il Signore sia con voi. E con il suo Signore. E per intercessione della Vergine Maria, Regina dei Martiri. Vi benedica Dio Onipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amore. Nel nome di Gesù e di Maria, andate in pace. Grazie a Dio. E viva Maria! Azzoni. Amore. O amore. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti